Sammy il pompiere, tutti i giorni alle 2-10 del pomeriggio Tocchiamo il grande Sammy e arriverà correndo Su Cartunito Far parte di una band è fantastico Abbiamo dei costumi nuovi E pezzinature nuove E anche trucchi nuovi Oh no, per me niente trucco Ciao, siamo il team Momizumi Wow, guardate quanti cavalli Ti piacciono i cavalli? Sì, anche a noi Questi cavalli tirano dei pesanti carri di fieno Per aiutare il fattore delle ranch Caspita Blaze, guarda quanta neve Ehi, attenti, il palle di fango!